L'unica strada per raggiungere Porto Venere è un'opera fondamentale per voi, metterla in sicurezza? Per noi è un'opera fondamentale, questa è l'unica via d'accesso che porta al nostro comune, è una strada particolarmente trafficata, molto più trafficata rispetto agli altri anni, vuoi per turismo, vuoi per l'aumento di veicoli a disposizione di ogni famiglia. È un intervento che non poteva più attendere, quindi noi lo aspettavamo con ansia, ci siamo interfacciati ovviamente con la provincia e con la regione per fare in modo che si potesse attendere il periodo autunnale per evitare di arrecare maggior disagio alla cittadinanza e ci auspichiamo che la popolazione però capisca che questa è un'opera fondamentale. La strada di Porto Venere è una delle tante strade, uno dei tanti interventi che dovete fare per la manutenzione in tutta la provincia. Sì, la nostra provincia è una provincia molto fragile che nei decenni ha accumulato problemi di manutenzione, ora stiamo intervenendo con circa 27 milioni sulle nostre strade, un record storico, mai fatti tanti lavori in contemporanea. Grazie all'aiuto tra istituzioni, in particolar modo della regione, riusciamo a garantire questo ulteriore investimento. Oltre ai fondi nazionali che siamo riusciti a portare alla Spezia e quindi, come avete visto, nelle scuole, in tutte le scuole superiori, anche nelle nostre strade stiamo facendo interventi molto importanti. Serve chiaramente però un piano nazionale di intervento in ogni territorio, in ogni provincia, perché gli enti provincia, come sono stati definanziati dalla riforma del Rio, non possono andare avanti così. Interventi di manutenzione sinergici tra tutte le istituzioni? Una buona collaborazione fra provincia e regione per una serie di interventi di manutenzione straordinaria, molto importante per questi territori, credo con un'attenzione da parte della regione alle strade secondarie che abbiamo voluto fortemente portare sui territori. Direi che è importante la collaborazione, la sinergia e anche la prevenzione di dissesti che ovviamente ci consentono di intervenire per tempo, evitando poi invece di dover intervenire in giorni di emergenza. Che tipo di lavoro farete per contenere questi cedimenti che sono sulla strada? Un'opera di consolidamento che avviene tramite una cordolatura sostenuta da pali e tiranti a posti a cavalletto in modo da essere solidarizzati appunto con il cordone in cemento armato di sommità. E poco più avanti sarà fatto a cura però della Snam un intervento a monte? Sì, più verso Portovenere viene fatto un intervento analogo per quello che riguarda la sede stradale accompagnato da un intervento di monte molto più importante che regima sostanzialmente le acque di monte, le convoglia attraversando la strada a valle in un compluvio per arrivare a Finamare senza interessare la strada e quindi provocare dissesto ulteriore nella corsia di valle della strada.